Gabbia e Zeroli. Matteo Gabbia e Kevin Zeroli sono i due volti della nostra domenica. Matteo Gabbia purtroppo si è fermato. Matteo Gabbia era tornato dalla sosta per le nazionali con un problemino. Infatti, per precauzione, per non aggravare quel problemino, aveva assaltato Milano Udinese, non ha giocato Milano Udinese. Poi è entrato in campo invece nella partita con il Bruges. Oggi c'è stato questo problema ancora al polpaccio. Molti lo chiamano ricaduta. Per carità, la zona è quella. Però io penso che il problemino in nazionale risalga dieci giorni fa. Ha saltato per precauzione l'Udinese, ha giocato col Bruges. Le ricadute di solito sono più a stretto giro, sono più ravvicinate. Io penso che sia un risentimento muscolare, diciamo, tra virgolette originale, che è capitato oggi in allenamento su un giocatore che aveva cambiato metodi di allenamento con la nazionale. Aveva saltato qualche allenamento prima del Milano Udinese, però si era allenato fino a oggi tutta la settimana. E aveva giocato col Bruges. Peccato, 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 peccato. Salterà sicuramente il Napoli, non ci sarà a Monza. Molti dicono che potrebbe anche esserci a Cagliari. Io dico che col Polpaccio non bisogna scherzare, vedremo. Adesso è chiaro che Gabbia si aggiunge all'assenza di Ebram, che non ha giocato nemmeno contro Bruges e Udinese dove abbiamo vinto. Le assenze è inutile aggiungere, affastellare. Perché quando ci sono poi gli infortuni e le assenze al Milan, sembrano più infortuni e più assenze degli altri. La Juventus oggi arriva rimaneggiatissima, con tantissimi infortuni a Inter-Juventus, ma nessuno ne parla. Invece elencare i nostri infortunati è un'abitudine che molti hanno. Per cui Gabbia non c'era nemmeno con l'Udinese, Ebram non c'era nemmeno con l'Udinese e Bruges, Theo e Reinders, Theo non c'era con l'Udinese, c'era col Bruges, c'erano entrambi col Bruges. Purtroppo, ma Reinders non c'era nemmeno con l'Udinese, perché ha saltato quasi tutta la partita anche con l'Udinese. Ci siamo già detti che Reinders salterà a Milan-Napoli, ma ci sarà invece Di Lorenzo, che doveva ricevere il secondo giallo. Il Corriere dello Sport, che è molto caro ai tifosi napoletani, lo ha scritto chiaramente, manca il secondo giallo su Di Lorenzo. Pazienza, tiriamo avanti e pensiamo alla partita senza essere negativi da questo punto di vista, senza essere problematici e complessi. Dobbiamo trasformare tutte queste circostanze in forza, in energia, in capacità di reazione. Dicevo, un volto della nostra domenica è Matteo Gabbia, l'altro volto è Kevin Zeroli. Abbiamo vinto una grande partita con il Milan Futuro a Perugia, allo Stadio Curi, dove a livello di prima squadra non giochiamo da un po' di tempo, ma oggi il Milan Futuro dopo... A me spiace che i critici di professione del Milan abbiano un argomento in meno, però sono felice di averglielo tolto. Vedete, il Milan Futuro è andato con tanto spirito a giocare a Perugia, era sfavorito, aveva tanti assenti, era fuori Bozzolan, erano fuori diversi giocatori, Voss era solo in panchina, Camarda è rimasto con la prima squadra, eppure il Milan Futuro è andato là, ha segnato Alesi, e poi questo gran gol in rovesciata di Kevin Zeroli. Kevin Zeroli è un giocatore importante, ragazzi, io seguo con grande attenzione la sua crescita, è un ragazzo presente, che ha ambizione, presente a se stesso, che ha ambizione, che ha voglia, che ha colpi, che ha caratteristiche. La crescita di Kevin Zeroli la dobbiamo accarezzare, meno sotto la luce dei riflettori di Camarda, ma la sostanza, la forgia, la qualità di Kevin Zeroli va comunque incoraggiata, va comunque seguita, e dobbiamo cercare di tenerla alta, forte e chiara il più possibile. Quindi sono un po' questi due i volti della nostra domenica. Matteo Gabbia, purtroppo l'infortunio, dobbiamo ruotare bene Malik Chao, Fiktomori e Pavlovich nelle prossime partite. Una parola la voglio dire su Malik Chao. Malik, forza, sei forte, avevi fatto benissimo nel Milan, con te siamo arrivati in semifinale di Champions League, eri a tutti gli effetti il titolare del Milan, fino a Milan-Borussia Dortmund di un anno fa, dove c'è stato un infortunio molto delicato, molto serio per Chao. Da allora solo una partita ha fatto all'altezza della sua qualità, Juventus-Milan 0-0, fine scorso campionato. Però Malik, forza. So che la nostra dirigenza ha parlato con il ragazzo in tempi non sospetti, nei giorni scorsi, gli ha dato forza, gli ha dato garra, gli ha dato grinta, gli ha dato fiducia. Malik deve essere semplicemente consapevole delle sue qualità. È un ragazzo molto sensibile, ma non deve trasformare... La sensibilità deve essere consapevolezza, non deve essere arrendevolezza. E quindi Malik, come Pavlovich, sono perfettamente in grado di sostituire Matteo Gabbia, che si fa male nel momento migliore della sua carriera. Non era mai andato in nazionale, ha cambiato metodo di allenamento, lui era abituato durante le soste a stare a Milanello. È stata una sosta diversa, benvenga, è stata un'esperienza importantissima per Matteo andare in nazionale. Però può capitare la prima sosta nelle nazionali che fai e torni a Milanello, può succedere questo contrattempo. Oggi purtroppo giocano tutti tranne noi, ce lo siamo già detti. Io sono contento che gli altri possano giocare, vivo molto come una forte costrizione il fatto che il Milan non abbia potuto giocare questa partita a Bologna, ma insomma andiamo avanti e pensiamo a questa partita col Napoli. Ieri l'hanno fatta la domanda. Antonio Conte si è sottratto, è stato bravissimo, ma dal punto di vista del tifo, più che della cronaca che del giornalismo, dal punto di vista del tifo è stata fatta la domanda a Conte dopo Napoli-Lecce. Il Milan si è riposato. Come si fa a dire una roba del genere? Come si fa a cercare di trasformare una partita che il Milan aveva voluto fortissimamente giocare certamente per la competizione, certamente per noi stessi, ma anche per il campionato, perché da oggi in poi siamo stagio di tutti i sindaci che vorranno indirizzare da una parte piuttosto che dall'altra il proprio consenso. Chi vorrà dare un significato politico al giocare o meno una partita di Serie A, che è una grande vetrina e una grande cassa di risonanza, d'ora in poi lo potrà fare. Però dire ad Antonio Conte che il Milan si è riposato è grossa. È grossa, infatti Antonio Conte non è stato al gioco, è stato bravo, si è sottratto e quindi sappiamo che sta pensando al Milan già da tempo. Ha fatto riposare Quarazveglia ieri all'inizio della partita. Io penso che troveremo un Napoli molto sicuro di sé. Ma attenzione, non un Napoli che verrà all'arma bianca. Un Napoli, troveremo un Napoli corazzato. Troveremo un Napoli sornione, tosto, che ci aspetta. E noi dobbiamo saperlo questo. Sarà un Napoli che non andrà allo sbaraglio. Sarà un Napoli molto tattico. Quindi noi dovremo esserlo a nostra volta. Fino ad oggi le due squadre contro, diciamo, le prime della classe ha fatto più partite il Milan che il Napoli. perché il Milan ha giocato sul campo della Lazio e è andato a Firenze e ha giocato e vinto il derby. Il Napoli, diciamo, contro le prime ha avuto solo Juventus-Napoli in una fase ancora nascente del campionato e del proprio progetto. Juventus-Napoli era stato un grigio 0-0. Sono due squadre che avevano più o meno la stessa inerzia, la stessa forgia. Il Napoli, invece, vorrebbe ripetere la partita di Torino con la Juventus ma contro un Milan che potrebbe prestare più il fianco al contropiede. Vedremo se Teo verrà sostituito da Terracciano o da Calabria. Vedremo se Reinders sarà sostituito dall'Oftucic o da Musa. Rafa Leao non ha ancora fatto gol in casa a San Siro contro il Napoli. Viene considerato uno spacca Napoli ma là, al Maradona. A San Siro mai. Forza Rafa. A domani.